Io le riporto intanto le parole del Presidente del Pescara Sebastiani che ha fatto esplicitamente i complimenti al Perugia e al Pescara per la bella partita vista. Ci ho parlato col Presidente e mi ha detto anche a me, sono d'accordo con lui, che in C difficilmente si vede questo tipo di atteggiamento e questo tipo di partita. Non che sia giusto o sbagliato un certo tipo di calcio, ci mancherebbe, si è vinto in tutti i modi. Però lo sapevo, insomma io sono un allievo del Mister, l'ho avuto come allenatore. Quando lui è stato mio allenatore io ho iniziato a scrivermi un quaderno di tutte le cose che mi sono piaciute in quella stagione che ogni tanto vado ancora a rileggere. Quindi ho preso tantissimi spunti da lui, è logico che poi ognuno di noi ci mette del suo, ma il Mister era avanti 30 anni fa quando giocavo io. Lui è uno di quelli che mi ha influenzato più di tutti e quindi poteva solo che venivano fuori una partita così. Penso che era una partita che poteva finire 4-4, 5-5 e forse sarebbe stata ancora più bella. O magari 2-0 se Cuppone fa un po' meno l'egoista. O magari 1-0 per voi se la traversa. Ma sì, ripeto quello che ho detto ai tuoi colleghi, cioè se vogliamo stare a discutere degli episodi di questa partita possiamo stare qui fino a domani. Allora andiamo tatticamente sulla partita, la chiave? La chiave è che nessuno dei due si è snaturato, nessuno dei due ha pensato alla mezzala che ci ballava tra le linee a tutte e due le squadre e quindi creavo la superiorità numerica. È stata bella per quello perché il tatticismo non c'è stato, è stato un 4-3-3 contro un 4-3-3 e tutte e due molto spregiudicati e tatticamente c'è stato poco. Quando gioca in due squadre che giocano 4-3-3 è difficile andare a prendere il play da tutte e due le parti e quindi è stata molto simile tra tutte e due le squadre. Una domanda rapidissima a Baldini che deve andare in sala stampa, Massimo o Fabio? No, al mister chiaramente gli faccio i complimenti. Gli dico, quanto è stato difficile resettare comunque una possibile Serie B e ripartire per un campionato diverso? Chiede Fabio Ferraresi quanto è stato difficile resettare una possibile Serie B e ripartire in questo campionato. Ma le dinamiche sono state complicatissime, calcolate che l'ultimo giorno di mercato per tutti alle 4-3 avevo informazione di serio e mi è stato portato via perché si è stata fatta una scelta societaria, abbiamo aspettato fino a due giorni prima del mercato di muoverci sul mercato perché non sapevamo se facevamo la Serie B o la Serie C. La cosa forte è la disponibilità che ho di questi ragazzi in tutti i giorni che ci siamo allenati senza pensare a che categoria facevamo. Quelli che sono stati qui hanno veramente lavorato forte e quindi questa è stata la cosa positiva.